Buongiorno ragazzi, cominciamo il nuovo capitolo di Geografia, cioè l'Europa e i suoi paesaggi, in cui vedremo a che cosa ci è servito studiare gli strumenti di Geografia, perché in questo capitolo di strumenti della Geografia, tra cartine geografiche, grafici e riferimenti all'eticolo geografico e ai punti cardinali ne troveremo molti. Prima di partire con la descrizione dei paesaggi europei e dei confini e della morfologia del territorio europeo, cerchiamo di capire che cos'è un continente. Un continente, vedete in questo planisfero, vediamo in colori diversi, diversi continenti, Europa, Asia, Africa, America, divisa in nord e sud e oceania, i cinque continenti, ci sarebbe anche l'Antartide, che però, pur essendo un pezzo di terra completamente ghiacciato, è completamente disabitato, quindi non viene considerato un continente. I continenti hanno un'estensione continua di terraferma, che è circondata dagli oceani e all'interno dei quali non riesce ad arrivare l'influenza del mare, cioè sono così grandi che, pur essendo circondati da oceani, l'influsso mitigatore del mare non arriva nell'entroterra, per cui nell'entroterra avremo un clima cosiddetto proprio continentale. Ricordiamo che cos'è l'influenza del mare? La faremo meglio quando faremo i mari. Il mare funziona come un'enorme borsa dell'acqua calda. Di giorno ed estate accumula i raggi solari, il calore del sole e di notte, d'inverno, li restituisce gradualmente. Immaginate appunto una borsa d'acqua calda, se noi la gonfiamo con il calore di un phon, di un asciugacapelli, essa perderà il suo calore in pochi secondi. Se noi la riempiamo di acqua bollente, manterrà il calore per diverse ore. Ecco, l'azione del mare è proprio questa. Quando parliamo di un continente talmente vasto che l'azione del mare non riesce ad arrivare nell'entroterra. Abbiamo parlato di come i continenti siano suddivisi. In realtà molti geografi considerano l'Europa come una penisola dell'Asia. Quindi più che continente europeo e continente asiatico parlano di un unico continente, l'Eurasia. Come potete vedere da questa cartina, sono due continenti congiunti e l'Europa sembra appunto una penisola che fa parte dell'Asia. Ed è considerato da questi geografi un subcontinente. Ma la divisione messa in opera da altri geografi su questo continente ha una motivazione culturale. infatti nei diversi secoli, nei diversi millenni, l'Europa è stata abitata da popolazioni molto simili per cultura e storia, mentre molto diversi dalla cultura e dalla storia asiatica. Per cui si è posto un confine tra Asia e Europa che appunto delimita questo continente. Adesso andiamo a vedere la conformazione dell'Europa. L'Europa, che è una penisola formata di penisole, poi lo vedremo meglio nella cartina, si trova nell'emisfero boreale, quello a nord dell'Equatore. Quindi abbiamo un primo riferimento a uno strumento della geografia che abbiamo visto, cioè i paralleli. Poi, come possiamo guardare da questo grafico riguardante la superficie, l'Europa ha una superficie di più di 10 milioni di chilometri quadrati. Attraverso questo istogramma, che noi dovremmo ben conoscere, vediamo che l'Europa è quarta per estensione territoriale rispetto agli altri continenti. Diversamente, rispetto alla sua estensione, l'Europa è un continente molto abitato. Si piazza al terzo posto in classifica di diversi continenti, per cui il primo sarà l'Asia e qui troviamo un aerogramma che noi dovremmo ben conoscere, ha il 60% degli abitanti mondiali, l'Africa il 15%, l'Europa il 12%, le due Americhe il 10% e infine l'Oceania il 3%, per un totale del 100% della popolazione. In ultimo, cerchiamo di capire ancora, non sappiamo bene i dettagli, ma cerchiamo di capire perché l'Europa ha così tanti abitanti, perché ha un clima temperato. Quando faremo i climi vedremo che esistono due fasce temperate, una a nord e una a sud dell'equatore, o meglio, tra il tropico del Canco e il circolo polare antartico e il tropico del Crepricorno e il circolo polare antartico, in cui c'è una condizione climatica più favorevole all'insediamento umano, dove non ci sono temperature estreme, non fa né freddissimo né caldissimo. Quindi ecco perché l'Europa è un continente così popoloso. Andiamo a vedere nella cartina muta che voi dovrete rifarvi sul vostro quaderno quali sono gli elementi che contraddistinguono i confini europei partendo da sud-est. Ricordiamoci che abbiamo fatto i punti cardinali, quindi non parleremo più di destra-sinistra, sopra e sotto, ma di punti cardinali. A sud-est i confini del continente europeo sono il Mar di Marmara, che è questo piccolo mare tra la Grecia e la Turchia, lo stretto del Borsforo e il Mar Nero, che la separano appunto dalla Turchia. Procedendo verso ovest abbiamo il Mar Mediterraneo, che divide l'Europa dal continente africano. A ovest, quindi a sud, Mar Mediterraneo. A ovest troviamo l'Oceano Atlantico, che delimita le coste del continente europeo. Così come a nord il Mar Graciale Artico fa la stessa cosa. A est i confini sono i Monti Urali, che dividono la Russia europea dalla Russia asiatica. Il fiume Ural, che nasce proprio dai Monti Urali. E il Mar Caspio, che è questo bacino, che più che un mare è un lago endoreico, poi vedremo che significa. È un lago chiuso, un lago salato, il più grande lago salato del mondo. Infine concludiamo sempre a est con la catena montuosa del Caucaso, che divide appunto l'Europa dall'Asia. Quindi vedete, tutti questi elementi naturali contraddistinguono i limiti, i confini dell'Europa. Vediamo perché l'Europa è una penisola fatta di penisole. Se osserviamo la cartina europea vedremo tutte queste punte, tutte queste prominenze che si allungano nel mare. Le più grandi penisole d'Europa sono la penisola scandinava a nord, la penisola iberica a ovest, a sud la penisola italiana e la penisola balcanica, che vedete si allungano appunto nei diversi mari. Ma il continente europeo possiede anche delle grandi isole e partendo da nord abbiamo l'Islanda, le isole britanniche, tutte e due nell'oceano atlantico, mentre nel Mediterraneo troviamo le più grandi isole sono la Corsica, la Sardegna e la Sicilia. E poi nel sud del bacino del Mediterraneo troviamo le due grandi isole di Creta e Cipro. Si conclude così la prima parte del capitolo dove abbiamo applicato gli strumenti della geografia per capire meglio la conformazione, i confini e il posizionamento del nostro continente. Nelle prossime lezioni vedremo quando è nata l'Europa, quando sono nate le diverse catene montuose, ad opera di terremoti e vulcani e capiremo meglio come si è formato il continente europeo. Arrivederci.